Il responsabile dell'area tecnica Rino Dannelli, sei stato in panchina, hai portato bene, hai dato quella carica che serviva. Primo tempo non bello, secondo tempo increscendo e poi hai fatto un regalo alla Veronica Bagnoli che oggi era il suo compleanno e quindi meglio di così non poteva andare. Partiamo dalla partita, ovviamente noi non dovevamo oggi guardare il bel gioco perché di fatto l'abbiamo fatto tante volte e poi non siamo riusciti a portare a casa i punti. Oggi secondo me abbiamo fatto una partita corta, attenta, non abbiamo rischiato poi tantissimo, però per noi erano fondamentali i tre punti, soprattutto i primi punti in casa. Speriamo adesso veramente di dare continuità perché ripeto anche fino allo sfinimento che questo gruppo è un gruppo di qualità. Domenica si va a Rimini, tu conosci la piazza, Rimini oggi ha perso con l'ultima in classifica, quindi è una partita tutta da giocare. Sì, è una partita difficile perché Rimini è una squadra che oggi ha perso ma secondo me è stato un inciampo e è difficile che quelle squadre sbaglino due partite di seguito. È una squadra che tra l'altro è una piazza importante che conosco, è in uno stadio importante e con una squadra forte, quindi noi dovremmo ripetere la partita di oggi e forse anche qualcosa di più per riuscire a fare il risultato lì. E gli auguri a Veronica? Beh, Veronica gli faccio gli auguri, penso che questo sia per me almeno il più bel regalo che gli posso fare. Grazie e ci vediamo presto. Anche, grazie a voi. Ha finita la partita da pochi minuti, il Presidente ha portato bene, il Sindaco pure, questa è la prima vittoria nel campo amico della Marignanese Cattolica. La squadra non ha giocato bene però ci ha messo tanto cuore, tanto animo e soprattutto ha trovato nei bomber la possibilità di vincere questa partita. Mercoledì scorso l'ha persa immeritatamente, oggi l'ha vinta con la forza e col coraggio. Una partita a due facce, un primo tempo sicuramente figlio della paura dovuto al momento e un secondo tempo dove man mano la squadra ha ritrovato il coraggio e ha cercato di ribaltare il risultato dopo il gol che aveva subito per una disattenzione. Bene, abbiamo perso tante partite al 94esimo, al 92esimo tra cui l'ultima, è giusto che tocchi a noi ogni tanto. Ho visto comunque una squadra reattiva, una squadra combattiva, più accorta in difesa, forse ha cambiato un pochettino lo stile di gioco, in questo momento non abbiamo bisogno di fare punti e tre punti per noi è l'acqua per il deserto, per cui sono molto contento in questo momento. Sindaco, adesso la lei deve fare in modo che il Presidente non vada via perché domenica prossima c'è il derby con Rimini e con questa squadra Rimini ha perso oggi con l'ultima della classe, quindi anche lì sono acque agitate e qui invece dovrebbero calmarsi. Dica al Presidente di non andarsene. No, no, lo trattengo, venerdì rientra qua a Cattolica, se ne va stasera a Milano per seguire i suoi lavori, ma poi venerdì sarà qua e domenica assolutamente. Domenica saremo insieme, come sempre, in tribuna a rappresentare la grande città di Cattolica. Il Sindaco volendo la può far arrestare, ma arrestare nel senso di fermo, provvisorio. Ma se mi fa arrestare a Cattolica non c'è nessun problema, ecco, una città così c'è voglia di venire, non di farsi arrestare. Molto bello questa cosa, perché d'altronde quando ci sono le vittorie c'è anche la voglia di esprimere, dopo tante amarezze, anche di esprimere un po' di gioia, di contentenza. Certo, sicuramente, diciamo che abbiamo sofferto questo periodo per molto, finalmente è arrivata la prima vittoria in casa, ha anche un sapore diverso in casa. Poi sono tre punti importanti, speriamo di vedere anche il suo collega di San Giovanni Marignano a Rimini, perché io penso che sarà una partita tutta da giocare. Beh, è il bello del campionato di Serie D, che comunque te la giochi ogni partita, la classifica conta fino a un certo punto, conta quello che ci mette in campo, il cuore, e quindi sicuramente ogni partita è combattuta e non è mai persa prima.